Un periodo in cui non ci sono problemi, non ci sono, allora dobbiamo ottimizzare i primi di ambiente. E allora non ha senso parlare di sala della provincia, di protezione civile, ognuno ha la sua sala, la protesta, tutte le componenti. Poi magari queste sale non sono neanche in rete, magari ci dobbiamo ancora sentire come 20 anni fa per tre. E allora forse è il caso di questo problema, quando c'è una emergenza, poi alla fine dove veramente ci sono? Io non lo so, sarà che sono la perdona di casa. Spesso è successo quando ci sono delle emergenze di una certa rilevanza, dove bisogna intervenire, deve intervenire non solo il Comune, la provincia, non deve intervenire lo Stato, deve intervenire la Regione, è stato proprio nel Palazzo del Governo che ci sia ritrovati. E allora è necessario...